Benvenuti cari follower. Un forte terremoto ha colpito l'Italia questa sera, lunedì 13 novembre 2023. Ma prima di entrare nei dettagli, se sei interessato alle notizie sui terremoti in Italia, premi il pulsante mi piace per questo video, iscriviti al canale e attiva la campanella su tutte le notifiche, in modo da ricevere la notifica immediatamente dopo ogni nuovo terremoto. In Italia. Così la terra ha tremato violentemente nel centro. Italia lunedì sera, intorno alle 6 di sera. Secondo il centro sismologico europeo, il terremoto è avvenuto sulla costa marchigiana, precisamente a 37 chilometri a nord-ovest di Ancona e 69 chilometri a est di Rimini, ad una profondità di 6 chilometri sopra la superficie terrestre. L'intensità del sisma ha raggiunto circa 3 gradi della scala Richter. Fortunatamente questo terremoto si è verificato nel mare adriatico e quindi la sua forza è diminuita.